La Dinamo Basket 2000 vince la Final Four del campionato regionale di promozione e viene promossa in Serie D. L'analisi di coach Emanuele Rotondo alla fine è la gara che vedeva i suoi ragazzi opposti al basket 80 ozzieri, degni avversari di una vincente finale. Quando si vincono i campionati, le partite, è sempre una cosa speciale, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Questa era una squadra completamente nuova, nata dalle ceneri delle vecchie osature, ci abbiamo creduto, l'abbiamo costruita pezzo per pezzo assieme ai dirigenti. Averli visti crescere, giocare con questa personalità, questo carisma, anche ragazzi che magari in anni precedenti non avevano avuto tanto spazio e tanto modo di mettersi in mostra, per me è una grandissima soddisfazione. Il basket è una grandissima passione, io ne ho fatto un lavoro, però se non hai la passione e l'entusiasmo per questo sport le cose non le fai bene, come in tante altre cose. Questa squadra nasce proprio da una collaborazione con la Dynamo, nel progetto Dynamo Academy per permettere a molti giovani che non hanno possibilità di giocare in categorie più alte, o perché c'è meno spazio, perché ci sono sempre meno squadra di poter fare dei campionati senior ed essere protagonisti. Quest'anno era la promozione, l'anno prossimo sarà la Serie D, creiamo opportunità per i ragazzi per potergli dare anche a loro la soddisfazione e la chance di praticare questo sport meraviglioso.